Buongiorno a domani, uccidere la pace al nostro gioco e quando aiuto della donna siamo forti e vivremo sempre liberi dal peccato e sicuramente dal momento del momento. Nella testa del peccato, chiaramente, speriamo di essere il mio grosso saluto al cuore di Gesù Cristo. Il cuore è la potenza e la gloria dei secoli. Signore, che ho visto, chiedi ai tuoi apposti che vi lascio la pace, vi lascio la mia pace, non guardare mai sempre il peccato, ma l'attenzione della testa. Ed ora non vi dai pace secondo la tua volontà, perché vi avvenire i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre il peccato, ma l'attenzione della testa. Signore, che ho visto, abbiatevi al segno della pace. La pace del Signore sia sempre il peccato, ma l'attenzione della testa, ma l'attenzione della testa, ma l'attenzione della testa, ma l'attenzione della testa. Il lograno poter secondari tempo, ma l'attenzione della testa. Sobre la testo, ma l'attenzione della testa, ma l'attenzione della testa, ma l'attenzione della testa per me, nei relativi Windowsawa stesso. 15 medicina per crema questa testa è un commento con l'att имеетälle. roi Grazie. 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 il tuo spirito. Amén. Quindi un grazie a Dio. Grazie a tutti.